Primo luglio 2009, un mercoledì memorabile per il sottoscritto che finalmente è arrivato alla base, diciamo, della Preichestonen, la rupe, un altare di pietra, che si trova infilato lì, in questo fiordo. Ora inizia il vero cammino. È iniziata la giornata alle 7.30, adesso sono le 13.58 e con la moto abbiamo finito, adesso si cammina a piedi. Due ore di cammino lungo le montagne, un sentiero che ci porterà fino a 600 metri sul livello del mare per poi poterci affacciare su questa rupe che cade a picco. Qua siamo al parcheggio, la moto è parcheggiata, ci siamo alleggeriti, mi sono alleggerito più che potevo, c'è solo uno zainetto con le apparecchiature fotografiche. Adesso cominciamo.